Musica Benvenuti a voi tutti cari amici e amiche di Termoli TV L'assessore Coco Mazzi ha annunciato questa mattina l'apertura del Lumière Presentata anche in comune anche l'ottava edizione della stagione concertistica di musica da camera Termoli Musica Dopo diversi anni di inattività finalmente arriva la svolta Il Lumière riaprirà i battenti A comunicare la tanto attesa notizia è stato proprio l'assessore della cultura Michele Coco Mazzi Che abbiamo sentito i nostri microfoni L'assessore è una grande e importante novità per Termoli Finalmente riapre il cinema Lumière Dopo una estenuante contrattazione Incontri vari perché c'era da mettere insieme le vicissitudini a quei soggetti Poi interessati a tutta la vicenda dalla proprietà E alla fila di altri soggetti Finalmente abbiamo raggiunto l'intesa di massima per fare in modo che il Comune possa riacquisire la disponibilità del Cato Lumière Per l'intera stagione internale fino a giugno E per cui sono assolutamente contento e soddisfatto Perché finalmente possiamo dare spazio alle anze e alle attese di tanti Che aspettavano questa notizia dalle scuole I licei E spero anche per quel minimo di programmazione In funzione anche delle distribuzioni economiche e risiche Che abbiamo a disposizione per il 2013 Per fare in modo che ci sia anche qualche evento comunale E insieme alla città potremo vivere all'interno del Cato Sono assolutamente contento e sono assolutamente contento Potenzialmente dare questa notizia All'utente e alla comunità intervallese Sempre in comune alla presenza del maestro Giuseppe Nise Presidente dell'Associazione Culturale Onde Serene e Coco Mazzi E' stata presentata l'ottava edizione della stagione concertistica di Musica da Camera Termoli Musica 2012-2013 Un cartellone ricco di appuntamenti Data la presenza dei migliori musicisti del momento Siamo giunti all'ottava edizione della stagione concertistica 2012-2013 in termoli di Musica Cosa ci dice su questo progetto culturalmente ambizioso? E' un progetto che veramente quest'anno ha faticato molto Per essere realizzato per l'anno fino appunto Grazie al lavoro delle sue cocomanze E siamo riusciti alla fine comunque non cancellare un evento Ho mai consolidato per i demoni che ha avuto tutta la edizione Ci saranno musicisti che hanno fatto tourney in tutto il mondo, gente importante? Il cartellone dei concerti prevede appunto artisti che hanno fatto il giro del mondo C'è un'oggetto che ha fatto il giro del mondo C'è un'ottima cosa che è da una persona che ci guarda Ma in quattro paesi di tutto il mondo ma il personaggio è il sito che avresta che verrà il progetto insieme a Olivera Cota, nella Basilica Cattedrale, potendo musica sangue, per il momento, un male d'organo e così via. Sono 13 appuntamenti, tutti gli versi e tutti, sicura che la dobbiamo. Potrebbe essere di origine dolosa l'ingendio che ha ridotto in cenere il bar Paninoteca Niagara, situato a Montenero di Bisaccia. Ieri notte, intorno alle 3 del mattino, un forte rumore ha svegliato i residenti della zona di Viale d'Europa. L'intervento dei vigili del fuoco di Termoli è stato preso che inutile per salvare il chiosco, in quanto le fiamme avevano già distrutto tutto lo stabile in legno. I pompieri dunque si sono limitati a domare le fiamme ormai quasi stente. Sul posto sono arrivati anche i carabinieri che hanno aperto un fascicolo sul caso. Presentata in anteprima anche a Termoli la nuova serie televisiva L'Isola, dedicata interamente alla guardia costiera. Il nostro direttore ne ha parlato anche con il comandante Manganiello. Vediamo. Avvincente e ricca di intrecci coinvolgenti, sarà sicuramente così la nuova serie televisiva L'Isola in 12 puntate che dal 2 dicembre andrà in onda sul Rai 1, interamente dedicata al corpo delle Capitanerie di Porto. Ieri pomeriggio all'Istituto Tecnico Nautico di Termoli è stata proiettata in anteprima la prima puntata della fiction. A presenziare l'evento c'era il comandante della Capitanerie di Porto di Termoli, Claudio Manganiello. Al suo fianco il dirigente scolastico Antonio Franzese e poi i vertici locali delle altre forze dell'ordine, oltre ad altri ufficiali e sotto ufficiali della guardia costiera e all'assessore alla cultura del comune di Termoli, Michele Gocomazzi. Lo aveva già evidenziato il comandante Manganiello nell'invito all'iniziativa, ma il pomeriggio di ieri è stato sicuramente un'importante occasione di avvicinamento della comunità termolese alle attività e ai compiti di istituto svolti dalla guardia costiera e dal contempo un'opportunità per quei giovani che per spirito di emulazione vorrebbero intraprendere la carriera professionale nella marina militare italiana, proprio come militare del corpo delle Capitanerie di Porto. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. che ha donato tre defibrillatori semi-automatici a due squadre giovanili di calcio e termoli calcio, consegnerà il dispositivo alla Polisportiva di San Pietro e Paolo. Ha riscosso un enorme successo l'iniziativa Molise in Bottiglia che ha raccolto a Palazzo Onorante diversi appassionati della cultura del vino, ma sentiamo. Molise in Bottiglia è il nome dell'evento che ha avuto luogo nel pomeriggio di ieri a Palazzo Onorante a Campomarino. L'iniziativa che vede al centro il progetto di un'enoteca regionale nasce con l'obiettivo da parte dell'amministrazione di valorizzare e promuovere il turismo attraverso eccellenze gastronomiche locali. Non si ferma la semplice vetrina locale, ma va oltre, puntando a tutto il territorio nazionale. Campomarino fa parte dell'Associazione Nazionale Città del Vino, ha fatto sapere l'assessore alla cultura Giuseppina Occhionero. E questo può essere un legame vincente per l'economia, le aziende agricole produttrici e il nostro territorio. Per l'assessore i luoghi del vino possono essere luoghi di turismo, per questo si punta al Molise come giacimento gastronomico che vada a creare un connubio tra vino, cultura, benessere e territorio. All'incontro erano presenti il sindaco di Campomarino Gianfranco Camilleri, il presidente della provincia Rosario De Matteis, il direttore generale dell'Associazione Città del Vino Paolo Benvenuti, Gabriele Di Blasio, il presidente del Movimento Turismo del Vino, il professor Rozzano Pazzagli dell'Università degli Studi del Molise, Pasquale Delena, produttore vinicolo. E proprio a Pasquale Delena è stato consegnato l'attestato di ambasciatore dell'Associazione Città del Vino da parte di Paolo Benvenuti. Come da tradizione annuale, la prima domenica dell'Avvento, l'Unità si celebrerà la giornata dell'adesione, un'occasione per rinnovare la propria vocazione al servizio dei fratelli sofferenti e all'impegno responsabile verso il prossimo. Il rinnovo dell'adesione avrà luogo il 2 dicembre 2012, a partire dalle ore 18, presso la parrocchia San Francesco d'Assisi, in Termoli. La celebrazione eucaristica sarà preseduta da Monsignor Gianfranco De Luca. Gli ultrassi del Termoli hanno organizzato un pullman per seguire la partita recatanese Termoli. Il costo di 20 euro ritrova il fissato alle ore 20 davanti al palazzo dello stadio. E con questa era l'ultima notizia. Vi ricordo che per qualsiasi informazione potete contattarci alle email redazionechiocciolatermoli.tv Grazie della vostra cortese attenzione e arrivederci. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.